Lui è Alex Müller, vivi a lungo, ma gira tutto il mondo, compra e vende opere d'arte di grande valore. E' qui per affari, tu ti occuperai di lui, e io invece di Eva, la sua bella e interessante mogliettina. Vi siete messi a truffare i truffatori, i delinquenti, i 007. Mai mischiare il lavoro con i sentimenti, si perde di vista l'obiettivo, mai fare il passo più lungo della gamba, si ritorce contro e si rischiano le venni. Il tuo amico Müller, il microchip deve consegnarlo a me. So tutto Alex, tutto. Di te, di lui e di quel maledetto programma che gli hai rubato. Sei un bastardo. Trovalo. 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 Trovalo.